Non giocare con sufficienza! Guarda che il portiere ha la magnestimissima, sono più chiara! E nero e bianco al contrario! Vieni Ale subito vieni! Devi venire su! Sei rimasto così! Tirati su! Non ci dovremmo vincere! Il Milan ci ha pareggiato e non ci abbiamo vinto! No il Milan l'ha vinto! Il Milan l'ha vinto! Appunto il Milan l'ha vinto! Il Milan l'ha pareggiato e non lo vinto! Bene! Questo di nuovo secondo me non so mai male per questo! Non è che so che la massima è un'estremessa! Vai! Non so che la massima è un'estremessa! Non so che la massima è un'estremessa! Bravo Ale! Giusta! Gli altri che si fermano! Gio ci sei! Dai! Siamo ai piedi! Ragazzi! 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 Dai Gio! Vai Gio! Ragazzi! State indietro per favore! Grazie! Sì è! Dai Ale! Gravissimo! Va bene Ale! Dai su Gio, su su Sì, lì, no, ma anche il giocatore, mi ha sbagliato, sia Pietro che il difensore, sì, ma ti tocca la palla sempre tua, non riuscire a prendere, dai subito, bravo Ale, Occhio Gio, questa è pericolosa, bravo Pietro, bravo Pietro, Gio ti sei fatti anticipare, hai fatto la palla giocata, Vai Gio, vai Gio, tutto il vantaggio l'ha perso, tutto il vantaggio l'ha perso, Bravo Vicky, dai Gio, dai Gio, dai Gio, bravo Vicky, dove vai? Pietro, due o tre metri, va bene, cinquanta no perché non li recuperi più, Bravo Vicky, bravo Gio, hai visto? Bravo Gio, bravo Vicky, proviamo, facciamo, proviamo sempre messi così, Ormai, bisogna vedere quanti compiti avete da fare, Baile, 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 Sì, bravo Leo, bravo Matteo, bravo Leo, bravo, beppe tu hai il tempo se siamo a 7 8 cambiamo questo dura un tempo? ci chiami all'ottava? vai Gio! Gio avevi il passo lungo devi accorciare il passo Pietro ma cosa fai? te lo dico io Marco dietro poi è posto ideale Fede Fede Marcello davanti giocate tu Pietro ma non funziona il lavoro per fargli ripartire il piede? ma non funziona il lavoro per fargli ripartire il piede? si poi gioca più avanti valla Matteo Marcello Fede ci corre in campo ci sta fermo ragazzi Marcello Fede non fatevi saltare ok? piuttosto aspetto un attimino ma non mi devo far saltare va bene? Gio 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 Gio! Gio Gio! bravo Ricky dai teo non lamentarti sempre su c'è il secondo tempo non ancora dai sedetevi lì adesso alle vestiti che piove dai fede dai fede buona e marce bravi bravo bravi bravo ricky giù state via dall'altro marcello tu sai che ti ho detto prima ragazzi vi spostate che così giro con la telecamera ragazzi per favore vi toglierlo ale ti togli ale ragazzi ma dovete stare tutti qua davanti ma sedetevi lì no santo cielo fede adesso va bene non ce la fate a stare la bravo fede bravo fede giusto vedi che stiamo facendo un lavoro che loro lo assimilano così in maniera magari si è quello che ti dicevo prima che sono piccoli oh donna no una goccia merita poi va bene perchè si impari passati la palla si siccome giù prima gli ha detto non mi state passando tanto non la state passando tanto no bravo marcello bravo fede fede marcello venite qui 4 a 1 subito subito lì adesso sta piovendo di brutto fallo andare fallo andare buona buona solo un gol così ti ringagliamo sei generosi non a caso non a caso dai fede vieni ci vai ci vieni buona buona fede vai parti vieni passano a marci no ma marci bravo federico aspetta aspetta beppe vai è finito fuori 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 bravo 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 frappi bravo bravo benетровa Jack, non stai a farmi avvolgare. Vai su. Guarda, mettete un po' più dietro. Bravo! 2-2. Bravo, bravo. Largo. Bravissimo. Fatti vedere, fatti vedere. Va la macchina. Bravo, vai a te! Ehi! Bravo, Dico. Alta la testa. Buona, se senti la falla. Sua, ripienta. Hop, via. No! Si giù, si giù! No, uno, due. Metto! Guarda nel mezzo! Buona! Prima, prima! Dai, Dico! Gran parata! Grande Ale! Grande Ale! Grande Ale! Bravo, Dico! Dai, Teo! Bravo, Ale, giocando benissimo. Buona! Paralo. Grazie! Accorci, all'alte! Arcorcia, scorci, attorci. La tua Ale, questo tuo anto. Questa è il tuo anto. Ora, сделi! Bambino! Vieni fracture. Torniamo! Bambino完成! occhio coprila Ale Ale coprila andiamo giù saliamo un po' sono passati 4 minuti ragazzi sono passati 4 minuti Pietro abbiamo aspettato tutto quel tempo c'è battuta la cagata vai Ale prendilo bravo Ale bene guardate io ti importa dai difesa Ale dai battete bene e anche abbastanza veloce fatti vedere no Ale ce l'hai lui di fianco Ale è più facile teo 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 devi dire un po' il spazio subito eh si bravo Alessandro bravo Pietro Pietro togli la palla passa qua passa qua bene bene posizioniamoci posizioniamoci bravo bacio che arriva bacio che arriva ce l'hai adesso bravo Teo bravo Teo sì sì mi sa Cosa facciamo? 10? Andre! Andrea! Andrea, quanto manca? 6 e 15 6 e 15 6 e 15 6 e 15 Cosa vuoi? All'8? All'8? 7 7 7 La giacca! La giacca! No, te la giusta, Paolo, ma per te Vicky, tu hai Bravo Vicky! Bravo Vicky! Ale, Ale! Da sua posizione, su! Forza, forza! Vai Joe! Vai Joe! Me l'hai in mezzo Joe se vuoi? Scusa Scusa Occhio Vicky, eh? Occhio Ale, dieci! Vieni in mezzo Ale! Entra, entra! Vieni Ale! Tu Ale! Bravo! Hanno aspettato Giusto, giusto Giusto Bravo Ale! Visto? Peter! Peter qua fai finire l'azione Vai Cammini! Fermo! Aspetta! Andiamo Mane Vicky Andiamo, andiamo Porta Ma perché vi lamentate sempre ragazzi? Visto, avete giocato Mamma mia Bravo Ale Bravo Ale Bravo Ale Bravo 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 E Joe Joe rimane perché c'è Non abbiamo difensori Samu non c'è Rimane per quello Però non potete lamentarvi sempre Teo vestiti E' lì il giubbotto Teo Vestiti Alessandro il giubbotto Gio non è andata a giocare dalle porte Che cadono Ale metti il giubbotto Portiere Portiere Subito Bravo Bravo Fede Uno due subito Bravo Di là Marci Non ti Che è bene Ricchi sei troppo lontano Tu che è Noyer Fatti vedere Chi è Noyer Com'è Com'è Fata Una parata Di mano Eccolo Hai visto Bravo bravo Marci dai Vai Marco Vai Marcello Vai Marcello Si Marci Corri Ti cammina Vai Marcello Gioppa Entra 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 Guarda Guarda Corra 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 No Marce Bravo Pietro A metà passaggio Facci vedere il mezzo Facci vedere Eccolo Arriva Arriva Dai l'anticipo dai marci forza su bravo portiere visto come è uscito ma no non può darla a te bravo fede non è vero bravo marci ma ragazzi lì il portiere è forte tu fai la scimmia ma no così io non lo capisco si così c'è ragazzi riuscite a fare dei danni anche fuori dal campo ma non c'è da ridere giù bravo 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 Grazie.